Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'aranciata. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono arance pelate a vivo, scorza d'arancia, zucchero e acqua frizzante molto fredda. Andiamo via alla ricetta. Per prima cosa riporre l'acqua frizzante in frigo. Mettere nel boccale la scorza d'arancia e lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'arancia ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 10. cuocere per 6 minuti. 100 gradi. Velocità 3. Filtrare e lasciare raffreddare completamente. Trascorso il tempo il composto si è ben raffreddato. Aggiungere l'acqua frizzante ben fredda. ed amalgamare bene. L'aranciata è pronta, serviamola. Aranciata, grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.